Ciao a tutti! Ciao da Sofia e ciao da mamma Ciao! E benvenuti in questo nuovo Video! In questo video sono troppo felice! E sapete perché? Oggi unboxeremo finalmente le LOL Lights Glitter e le LOL Lights Pants Eccole qui! Ma sono troppo emozionata non vedo l'ora! Dai apriamole! Quale vuoi aprire per prima? La LOL Va bene! Allora cominciamo subito! Sì! Vai col primo strato e subito l'indizio! Una parrucca un beauty case e una spunta C'è scritto hair, makeup, check Ma quale potrebbe essere? Via il primo strato cominciamo col secondo Che bella la sfera! Guardate un po' È bellissima! Ecco qui! Wow! Togliamo la carta Qui abbiamo la checklist Apriamola subito! Wow! La mia preferita è assolutamente questa qui! Sì! Sì, anche la mia Sì, anche la mia Sono tutte fantastiche! A me piace tantissimo questa ma anche questa mi piace tanto E la mia seconda è questa Poi abbiamo la rara che è questa e poi c'è questa Drip Drop che è la ultra rara! Wow! Queste qui fanno parte del club delle artiste a me piacciono tutte e tre A me è solo questa Solo questa? Sì E questa Questa non mi piace Allora scopriamo subito quale c'è uscita! Sì! Per prima cosa apri questo sacchetto qui Ok Ci siamo Quali sono? No! Sofia! Penso che è proprio la mia preferita! Credo che questa è Harley Quinn Wow! Anch'io penso! Guardate qui che carine! Poi che cosa c'è dentro? La pavola apri la per ultima Ok Però io credo che qui c'è il biberon Sì Dai dai Il biberon è la cosa che mi piace più di tutte È proprio il biberon! Sì Ma è proprio il suo Eh sì È proprio bianco e nero Come lei È proprio quello Sofia è lei Wow Poi 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 cosa vuoi aprire? Questo qui Cos'è? Devo scoprirlo Non lo so cos'è Penso che la lucina! La torcia giusto! La apriamo per l'ultima Che ne dici? Apriamola subito Ok Vai Che carina Ho tolto questo perché quando togliete questo che era incastrato qui serve per far funzionare la torcina Sì Eccola qui la torcia Sembra un binocolo vabbè ecco qui adesso voglio aprire questo Creda che è proprio il suo completino Sì dai che sono curiosa è molto carino è molto carino il suo completino Oh Rola di ciappuri 3 2 1 No Super cool Anche questo è brillantinato È pieno di glitter Guardate È bellissimo È bellissimo Super cool Bene Adesso abbiamo la LOL Non ci resta che lei Sarà bellissima di sicuro Wow Dai fammi vedere che sono curiosa Prego Oh mio Dio Ragazzi Oh mio Dio Guardate qui Guardate come è colorato bene il suo viso Per adesso vestiamola Non vogliamo vedere se piange se cambia colore Beh Meglio di sì Allora qui ho preparato dell'acqua E adesso immestiamo la nostra LOL Ma a me sembra che sta cambiando colore Sofì Credo che è pronta Oh Wow Falla vedere No Guardate qui Che carino Cambio colore E fammela vedere a me Solo che fa così caldo che dura così poco il suo cambio colore E adesso vediamo se Sputo piange Sofì Dai 3 2 1 Sputa Sputa La nostra LOL Queen Sputa Yippie 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 Ok Adesso mettiamo l'acqua via e vestiamola Da cosa cominci? Dal completino Mettiamo il suo completino Guardate che carina Bene Bene Adesso voglio passare dalle scarpe La nera la metto sulla bianca E la bianca la metto sulla nera Ecco qui Wow E adesso voglio mettere il suo cerchietto E adesso mettiamo il colletto Oh Guardate che carina E adesso passiamo alla LOL LI트 Sì Ma avete notato la lampadina sulla sceniera? Sull'indizio c'è una lampadina e una coppa Guardate un po' C'è scritto best in glow ma guarda come la sfera nera è trasparente wow no ma sai forse cosa vuol dire questo no forse è una rara forse hai ragione no speriamo dai su apri 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 aspetta la scopriamo dopo la checklist vediamo vediamo qual è la tua preferita questa qui ma che carina si è vero qual è la tua vabbè questa è bellissima che poi è quella che si trova anche sulla sfera e la mia seconda è questa poi abbiamo queste due pony dancer e purple duff credo che si dica così che sono le rare e poi metal kt che è la ultra rara no la mia seconda preferita è questa si e qual è la tua seconda questa però anche questa non mi dispiace devo dire e poi se è rara ci sarà un motivo vabbè anche questa è carina quasi tutte mi piacciono il cuffetto non mi piace tanto devo dire mamma che aspettiamo apriamo così scopriamo subito qual è allora da cosa decidi di cominciare quale decidi di aprire per primo questo qui e che c'è lì aspetta è qualcosa di strano di strano apriamo subito dai si cos'è è una molettina che carina con una corancina adesso apriamo questo credo che il suo biberon vediamo o la torcia può essere è proprio la torcia è uguale peccato credevo fosse di un altro colore che cos'è meglio aprirla così sappiamo subito che cos'è è una spazzola a forma di gatto wow apriamo qualcos'altro sembra che sono le scarpine vi faccio vedere solo una perché tutte sono uguali mi piacciono sono così glitterate ma che bello credo che questo è il suo biberon ecco qui il tappo è come una lattina e questo è tutto il biberon blu tutto glitterato hai ragione ecco qui aspetta voglio scoprire che cos'è non so che cos'è questa cosa scopriamolo subito una molletta per capelli di fulmine wow blu blu e fucsia bellissimo c'è ancora l'ultimo aspetta cosa è strano sembrano degli occhiali sei sicura che non sono pucche quelle no scopriamole dai 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 delle ali ma qual è? non ho capito qual è neanche io beh quindi non c'è resta che scoprirlo vediamo nooo guardate qui quanti peli adesso li togliamo sotto il pelo adesso scopriamo il suo viso ecco qui tre due una oh oh mio dio ma ancora dei peli guardate ragazzi guardate troppo carina dai mettigli i suoi accessori si scappine oh mamma è difficile ok e adesso mettiamogli le ali poi stazioniamo i capelli e qui la coda ecco qui e adesso mettiamogli le mollette beh non è ancora un cinoista ma io credo si anche secondo me ecco qui la nostra mollettina guardate che carina e adesso le andremo a provare al buio dai venite con me wow ragazzi sono bellissima guardate un po come si illuminano guarda il fiocco azzurro e rosa oh i capelli wow bicolor il suo braccio il suo biberon wow anche se queste luci non sono così forti hai ragione bisogna metterlo molto vicino wow hai ragione però sono bellissime bellissime e adesso la nostra pet ecco qui beh purtroppo della camera non rende molto ma è sempre brillante poi guardate i suoi accessori la spazzola come si illumina il biberon e le scarpe come sono brillantinate wow sono bellissime questi occhi ti piacciono si allora ragazzi vi sono piaciute queste lol light critter al buio a me tantissimo anche a me sono piaciute tantissimo sono proprio bellissime e poi ci sono uscite una lol e una pet super belle siamo state super fortunate è vero beh ragazzi se questo unboxing vi è piaciuto mettete tantissimi like e non dimenticate di iscrivervi al canale entrando nel nostro bellissimo team Sofia e mamma quindi come sempre vi aspetto in un prossimo video e a presto ciao ciao